Si sono autosospesi dalla percezione dello stipendio i quattro direttori generali delle ULS Venete, regolarmente nominati mentre erano in servizio, mandati nel frattempo in pensione e questo in attesa che il ministero sciolga il nodo legale, ovvero se possano essere cumulati o meno quiescenza e stipendio da manager. Lo ha riferito a metà giornata con una nota ufficiale lo stesso Luciano Flor, numero uno dell'area sanità della regione del Veneto. Si tratta, anche se il comunicato non li cita espressamente, del direttore dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben, del direttore dell'Uls 2, marca trevigiana Francesco Benazzi, d'Edgardo contato per l'Uls 3 Serenissima, di Giuseppina Bonavina dell'Uls 8 Berica. Con la presa di posizione del dottor Luciano Flor è uscita finalmente una prima posizione ufficiale della regione Veneto. La questione in Veneto era stata posta dalla Confederazione Unitaria di Base, il CUB, che ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza di Venezia e alle procure della Repubblica del Veneto. Sullo sfondo la vicenda del manager vicentino Giampaolo Stopazzolo, direttore generale dell'Uls di Potenza, che si è dimesso nelle scorse ore dopo le polemiche che per settimane hanno interessato il cumulo di pensione e stipendio con l'apertura di un'inchiesta da parte della Corte dei Conti. Va detto però che il caso dei DG Veneti sembra in parte diverso, essendo stati nominati quando ancora erano in servizio. Tutti e quattro, si spiega nella nota della regione, hanno anticipato un parere legale pro veritate concernente approfondimenti in merito alla loro posizione, ma per i sindacati la questione è già sufficientemente chiara. La presa di posizione noi la prendiamo come una parziale ammissione che c'è qualcosa che non va in queste nomine dirigenziali. La norma è del 2014 ed è, ci appare quantomeno stravagante, che gli alti vertici della regione e i dirigenti presenti in regione Veneto non ne fossero informati. È una questione che andrà chiarita subito, al più presto e auspichiamo quindi anche una netta presa di posizione proprio da parte di Luca Zaia e della Giunta Veneta.